Vi do un caloroso benvenuto all'evento che tutti stavate aspettando! Sto parlando della coffa dei campioni di Hot Wheels Monster Trucks! Quest'estate i Monster Trucks più grandi e più forti si sono sfidati nel campo scontri per vedere chi tra loro è davvero il migliore! Si sono colpiti, si sono scontrati e hanno dovuto affrontare delle sfide difficilissime! Ehi là! Qualcuno ha intenzione di farci scendere? Ecco che arrivano i Monster Trucks! Ray Sails! Devo Derby! Tiger Shark! E... Bone Shaker! Chi tra di loro riuscirà a portarsi a casa la Coppa dei Campioni? Sarò io a vincere quella Coppa dei Campioni! Questo torneo è proprio il posto giusto per scatenare la mia furia! Nella prima sfida di questa Coppa dei Campioni abbiamo preparato per voi una gara di proporzioni epiche! Si comincia sfrecciando in mezzo a dei pericolosissimi alberi! Poi il ponte più traballante che abbiate mai visto! E infine una bella salita verso la vetta per arrivare al traguardo! Una gara di velocità? Sarà un gioco da ragazzi! Sfrecciare è il mio secondo nome! Eh... in realtà mi chiamo Ray Sails però... Sì, sono sicuro che ce la farò! Spero che voi tre abbiate una ruota di scorta! Perché oggi sono pronto a vincere e a distruggere! Ah! Sono sicuro che vi saluterò dal traguardo! Tranquilli ragazzi! Potrete sfidarvi per il secondo posto dopo che avrò vinto io! Accetto la sfida! Che vinca il migliore! Cioè io! Ai vostri posti sfidanti! Tenetevi pronti! Go Big! Go Hot Wheels! Vai così! Sì! Questa gara sarà dura da affrontare! Ma ho qualche asso nella manica! Queste fiamme non sono solo disegnate! Sì! 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 Oh sì! Sì! Va bene! Sfreccia e distruggi! Tranquillo, bello Non possono prendermi se non mi vedono Per tutti i motori, guardate cosa ha fatto Sembra che Bonshaker stia facendo un buon uso del suo teschio fiammante Merita di vincere? Io credo proprio di sì Fai così! Oh sì! Wow! È stato quasi troppo facile! Wow! Come sfreccio! Voi siete ancora lì dietro? Vai così! Eccomi qua! Ora posso vedervi tutti perdere mentre io guadagno la vittoria! Ma che cosa fa? L'Emo Derby è così sicura di sé che ha deciso di andare all'indietro Questo potrebbe rivelarsi un disastro O la vittoria più bella nella storia dei Monster Trucks Ci vediamo al traguardo, ragazzi! Sfreccia e distruzzi! Ehi! Aspettate! Ricordatemi di non provare mai più ad attraversare una foresta all'indietro Vai così! Woohoo! Un aiutino? Sì! Posso vincere! Andiamo, Bomshaker! Puoi farcela! Oh, no! Ciao, coccodrillini! State buoni! Oh, no! Sembra che l'unica corsa che potrà fare Bomshaker sarà quella che gli permetterà di scappare dai coccodrilli Mancano solo due sfidanti! È arrivato il momento di vincere! Io non ho paura dei coccodrilli Sono un predatore Ma non ho mica le ali Come potremmo fare per raggiungere il traguardo? Oh, no! Gente! La gara finisce qui? Non ci sarà nessun vincitore della Coppa dei Campioni? Wow! Quei coccodrilli sembrano proprio affamati! Cosa succederà adesso? Eh? Ah-ha! No! Sono pronto! Questa sarà la sfida più grande che abbia mai affrontato! Non posso crederci, gente! Ray-6 ha usato il ponte crollato come rampa e adesso è in vantaggio! Oh, no! Vai così! È stato fantastico! Ray-6 è partito e... Vroom! E Tiger Shark invece diceva... No! E alla fine facevamo tutti... Wow! Oggi è stata davvero una gara spettacolare piena di caos e distruzione! Tiger Shark e Ray-6 passano al prossimo turno! E, ragazzi, parliamo di roba forte! Chi riuscirà ad affrontare il percorso del caos e a vincere la Coppa dei Campioni? Alla prossima, gente! Per un altro scontro pieno di distruzione! Non so proprio perché l'ho fatto! Alla prossima, gente!